Ma guarda! Doh! Ehm... Ma che film ha finuto qua? Ehm... Ehm... Tanto non si vuole! Eh no! Dai veloce! Devi cogliere! Guarda! Ma fai il filmato! Fai il filmato! Sto facendo! Ehm... Ma hai schiacciato? Sì! Ma... Che pace! Guarda! Sto da mano! Ciao a tutti! Ciao a tutti!